La questione degli scandali resta uno dei punti dolenti del cristianesimo, un po' perché i testimoni di Cristo troppe volte assumono comportamenti che contraddicono quello che professano a parole, e in parte perché alcune testate giornalistiche approfittano degli scandali per vendere più copie dei giornali, e non possiamo dare tutta la colpa loro, siamo noi che siamo incuriositi dagli scandali, come accade un incidente in autostrada e tutti quelli che passano rallentano per vedere cosa sia successo, noi siamo attratti dai disastri. Ma non è questo il vero problema, perché alla fine dei tempi noi non dovremo rendere conto della nostra vita ai giornalisti ma a Dio, quindi non è del giudizio dell'opinione pubblica che dobbiamo essere preoccupati, ma del fatto che non stiamo vivendo nella verità. Gesù arriva a dire che è meglio morire che dare scandalo a un piccolo, ma questo non è un invito a togliersi la vita, ma a salvare la vita, un invito a rivedere i comportamenti che potrebbero creare scandalo e ad essere vigilanti. Proviamo a porci questa domanda. Se un bambino potesse guardare nel nostro cuore, cosa vedrebbe? Troverebbe luce, amore, compassione, simpatia, oppure qualcosa di più intricato e oscuro. Facciamo allora il possibile per dare qualcosa di bello a noi stessi e alle nuove generazioni.